che consigli vuoi dare alla generazione di oggi e alla generazione del futuro che consigli vuoi dare alla generazione e consigli di mangiare bene e alla generazione del futuro no, 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 repeat it, repeat it, or from the top wherever you lost them I left them in the end alright, hold on, let's start over